Fontanelle, ci risiamo. Eravamo stati qui diversi mesi fa per documentare una vera e propria discarica a cielo aperto nel giardino di un palazzo. Una denuncia è andata a buon fine, visto che qualche giorno dopo l'aria è stata completamente ripulita. Ma stamattina siamo tornati, invitati dal candidato sindaco di Pescara, Domenico Pettinari, e abbiamo trovato questa situazione. La discarica è tornata a prosperare rigogliosa e perfino gli alberi, invece degli aspicati frutti, hanno mostrato la presenza tra i rami addirittura di buste di spazzatura. Domenico Pettinari, non sapevamo che dagli alberi potessero nascere buste di spazzatura, anche questo a Fontanelle. Sì, questo è un grande peccato perché qui stiamo, io dico, in una delle zone più belle della nostra periferia perché c'è tanto verde, ci sono tanti alberi. Potrebbe essere una rete ecologica urbana che andrebbe sostenuta, promossa, incrementata, valorizzata e purtroppo è nel completo stato di abbandono da parte dell'amministrazione comunale. Ma mi lasci dire, qui stiamo ancora a denunciare purtroppo situazioni di illegalità diffusa nelle case popolari. Ci sono ancora dei delinquenti che spacciano droga a tutte le ore, che utilizzano la casa popolare per delinquere, quindi per fare profitto, e noi lo stiamo dicendo da anni. Le case popolari vanno date ai cittadini onesti che sono in graduatoria, che sono disabili, minori, persone ceti meno abbienti e sicuramente vanno tolte a coloro che non ne hanno diritto, che le usano come botteghe della droga. Questa è una cosa semplicissima e va fatta. E durante la, per così dire, visita guidata ci si avvicina un residente che vuole darci un altro punto di vista. Si chiama Fabio D'Alberto e si pone a difesa di quelle famiglie spesso additate come criminali ed incivili. Si imputa ad alcune famiglie di essere incivili, di buttare la spazzatura e voi cosa rispondete? Guarda, prima cosa, già da come ti sei posto, già so che vorresti attaccare a Massimiliano. No, no, io parlo in genere. Ok, allora io ti dico che non è così. Purtroppo qua è stato sempre un quartiere difficile, sempre. L'istituzione non ci sono mai state. Ora con l'abbattimento anche del ferro di cavallo, l'avete portato qua e dopo chi è? Di chi parliamo? Di Massimiliano Gerasoli. Ci sta qualcosa che non va. Qua dietro ci sta un canalone che mette paura. Ma no da adesso, da tanti anni. Quindi la criminalità c'è? Secondo voi c'è? Ok, ci può stare. Però non è una cosa che ora per la criminalità pettinare. È inutile che ora lui si fa vedere e dopo quando lo rivediamo. Oppure che fa? Allora, quelli abusivi. Prima li mettete le finestre e ora gli date lo sfratto. Per me non contro senso. Un'altra considerazione. Quella zona che abbiamo ripreso qualche mese fa era in condizioni più o meno simili. Poi non sono venuti a ripulire e adesso siamo punto a capo. Perché questo? Ma io avrei la ricetta anche per questo problema. Uno intanto mettiamo fototrappole. Fototrappole anche nascoste dappertutto che possano individuare, fotografare e capire. Ma poi ci sono degli occupanti abusivi che vivono nell'illegalità. Io direi procediamo anche allo sfratto di quelle persone che magari poi lo risolviamo il problema. Grazie a tutti.